Terrestri, vi sto parlando da un pianeta lontano! Aprite le mani e alzatele verso il cielo! Cesare si è messo in contatto con gli abitanti della Terra per chiedere aiuto. Il Saiyan vorrebbe passare l'esame con una sfera di energia gigantesca ottenuta appunto raccogliendo la forza di tutti gli esseri umani, però... Ah, secondo me quello è tutto matto. Già, non capisco proprio perché dobbiamo ascoltarlo. È ottimo questo gelato, vero? Già, è delizioso. Mi state deludendo! Qui c'è in gioco il vostro pianeta! È inammissibile che non vogliate darvi da fare per salvarlo! Il mio amico nei guai, ti prego, ti scongiuro, aiutalo per favore! Insomma, mi sentite o no? Mi serve il vostro aiuto! Che rimanga in bicocca! E un'altra volta! Non c'è neanche un minuto da perdere. Cesare ha bisogno dell'energia di tutti per eliminare definitivamente dalla scena in l'ultimo esame! Tutti uniti per l'energia sferica!